Chiusura in piazza Plebiscito per la sesta edizione del progetto Sì Saggio Guida Sicuro, promosso dall'Associazione Meridiani, che ha coinvolto migliaia di studenti delle scuole secondarie della regione sul tema della sicurezza stradale. Questa mattina l'apertura in piazza del Villaggio dello Sport, organizzato dal Coni Campania con dimostrazioni delle federazioni sportive e il Villaggio Tecnico con esposizioni interattive sulla sicurezza stradale. Sempre in piazza Plebiscito ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del concorso di idee Inventa un segnale stradale con la consegna dei premi alle scuole vincitrici e degli attestati agli istituti che hanno partecipato al progetto. È davvero un'iniziativa bella che si ripete in piazza Plebiscito con tante istituzioni ma soprattutto tanti ragazzi, tante scolaresche con messaggi molto forti, responsabili, innovativi che fanno comprendere quanto l'educazione alla legalità, la sensibilità alla sicurezza sia sempre più crescente. Questo è grazie a una comunicazione istituzionale corretta, grazie alla scuola del nostro paese e grazie a quello che si fa in questa città come comunità per renderla sempre più sicura e più accogliente.